Siamo qui al Circo Sporting di Corso Umbria, dove è appena partita una raccolta per l'Emilia-Romagna e siamo qui con Luisa, ci spiega il Sporting d'Ora, ci spiega brevemente come si è svolta questa raccolta. È partita così, da un'idea di giovedì, che con Marco Liccioni abbiamo pensato di fare questa cosa, abbiamo pensato che forse queste altre persone avevano bisogno di un aiuto e noi ci siamo immediatamente messi a loro disposizione. Tutte queste cose che vedete sono state donate, arrivano da tutte le parti del Piemonte, alcune addirittura dalla provincia di Cunea, sono accorsi a portare qualsiasi cosa. Ne aspettiamo ancora tutta la giornata e questa sera verrà caricato il furgone e domattina partirà Marco, Matteo e probabilmente anche Beppe per raggiungere la provincia di Forlì. Grazie. Qui ci sono gli abiti, abbiamo diviso gli abiti per i bimbi. Alcune coperte da uomo, un po' di zainetti per i bambini, qualche tovaglia, qualche lenzuolo, alcuni altri abiti che sono tutti stati donati. Grazie. Grazie. Grazie.